Il lupo gode oggi di una tutela della quale secondo me non abbiamo bisogno perché quando 30 anni fa questa tutela è stata decisa il lupo era praticamente estinto nell'Unione Europea di allora. Oggi nell'Unione Europea abbiamo intorno a 25.000 lupi quindi la tutela altissima che c'è in questo momento non ha senso. Spetterà i 27 ministri dell'ambiente e degli stati membri dell'Unione Europea votare fra pochi giorni la proposta della Commissione sulla riduzione dello stato di protezione del lupo. La conferma è arrivata in questi giorni dopo l'incontro tenutosi in Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Durante l'incontro i parlamentari hanno discusso della proposta presentata su questo nuovo percorso che potrebbe interessare anche i lupi dell'altopiano dei sette comuni. I problemi con l'agricoltura e soprattutto la pastorizia aumentano da giorno in giorno quindi c'è veramente tempo di agire. Ed è proprio la situazione dell'allevamento di montagne e delle malghe che preoccupa l'altopiano dove ogni anno le predazioni sono moltissime sia ai danni dei capi di bestiame sia relative agli animali domestici. Situazioni dove ci sono ancora malghe, dove c'è un forte turismo creano un notevole problema. Oggi c'è una popolazione stabile di lupi sul territorio, i problemi aumentano da anno in anno. Una dichiarazione che parla direttamente della situazione dell'altopiano dove importanti fondi di reddito per la popolazione come l'allevamento, le malghe e il turismo devono fare i conti ogni giorno con la presenza dei selvatici. Grazie.